... Ucciso dalle corna del cervo nella sua tragedia tra Borgo, Valbelluna e Querovassi, i funerali di Mamma, il martedì alle 15 a Scandolare di Zero Branco, a parlare oggi i genitori del 35enne, non c'è rabbia, soltanto dolore. Possibile infiltrazione d'acqua, crolla una parte del solaio del corridoio del primo piano di una scuola media di Col San Martino, il sindaco di Farra chiude l'istituto per precauzione fino a lunedì. Nel novembre 2022 avevano picchiato e rapinato un 34enne barista di Conegliano dopo averli teso un agguato, due banditi arrestati dai carabinieri. Sette anni fa stuprarono una diciottene in un'abitazione di Marconi, individuati due giovani violentatori bloccati dalla polizia Mestre e Vittorio Veneto. Rafforzamento dei controlli per la guerra in Medio Oriente, 25enne africano arrestato dalla Guardia di Finanza, l'aeroporto Canova cercava di entrare in Italia con documenti falsi. L'odizia di una famiglia di Fontanella le prese con un vicino di casa che era arrivato alle percose a lanciare liquido infiammabile contro di loro, sorveglianza speciale della questura per un 57enne. L'assemblea del personale infermieristico delle sale operatorie del Cafoncello, operatori sotto stress e preoccupati per il trasferimento alla cittadella della salute e le rassicurazioni del direttore generale Benazzi. I bimbi della scuola elementare Colodi di Treviso hanno partecipato all'inaugurazione di una grande murale in una parete del loro istituto nella quartiere di San Liberato. Telespettatori di Antena Trebo, la sera ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è un'ampia pagina di cronaca. In primo piano torniamo a parlare del tragico, assurdo incidente avvenuto tra Borgo Valbelluna e Querovas, la tragedia di Manuel Favaro. Non c'è rabbia ma soltanto dolore, un pezzo di cuore che non c'è più. Sono le parole della mamma e del papà e anche del fratello del 35enne morto. I funerali, martedì alle 15 a Scandolara di Zero Branco. Emanuele era un mito, era un ragazzo solare pieno di vita. Si faceva amare da tutti. Non c'era? Sì. Non c'era altro. Diceva, ciao vecchia, sono qua, siamo arrivati. Dai, prenditi la nipotina, goditela. Sì. Era felice di essere diventato papà? Sì, era il settimo cielo. Viveva per la sua famiglia. Tranquilla vecchia, sto bene, diceva Manuel a mamma Donatella. Ogni volta che lei preoccupata lo cercava per sapere dove fosse. Stava in apprensione sempre quando si metteva in strada con il camion, ma lui cercava di tranquillizzarla. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un destino atroce attendesse suo figlio sulla strada. Il martedì sera c'era la riunione di famiglia, Manuel sedeva qui. Una famiglia unitissima. Racconta papà Roberto che sabato il figlio lo aveva raggiunto qui sul campo per aiutarlo a raccogliere le patate. Faceva anche giardini fuori, a fuori tempo, anche se faceva un sacco di ore, però era sempre, e sempre con sorriso in bocca. Sempre felice. Stavamo indietro, non si tirava. Sì. Era sempre disponibile per tutti. È Alex il figlio più giovane a stringere accanto a sé mamma e papà, lui e Moira la più grande. Questa la foto che li ritrae da piccoli. Se ne rendiamo ancora conto, anche se l'abbiamo già visto in orbittorio, non ci rendiamo ancora conto che ci manca il suo sorriso, tutto. Non riusciamo ancora a realizzare bene cosa è successo. Non c'è rabbia nelle loro parole, né un accenno all'auto che ha travolto il cervo, finito poi nella cabina del camion guidato dal figlio. Non penso a altro, io penso solo a lui. Se non si è accorto neanche quello della macchina, sicuramente. È stato a una... Non si è accorto neanche il nostro figlio. A breve arriverà Tiziana, la compagna di Manuel. Cercano di stare insieme il più possibile. Era il giorno di Pasqua, quando comunicarono la nascita della loro bambina. Manuel aveva fatto mettere dentro l'uovo scarpette ed ecografia per dare il lieto annuncio. Guardo loro due e non capisco. Allora mi fanno, ma non hai capito? Certo, ma che cos'è? Ah, la tiziana è incinta. Guardo mio figlio, sbianco, e mi sono messo a piacere dalla felicità. I funerali di Manuel saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Scandolara. La sera prima alle 20 sarà recitato il Santo Rosario. La famiglia sta organizzando un pullman con partenza domenica a questa, ora è 7.30, dal piazzale della chiesa per chiunque volesse salutare il figlio in obitorio a Belluno. Attendono di capire quante persone arriveranno. C'è il mondo, c'è il mondo che ci vuole bene, il mondo, e li ringrazio. Un pezzo di cuore è partito. Era un pezzo di noi, non c'è più. Le abbondanti piogge sono arrivate come previsto in tutta la Marche e potrebbe esserci anche un'infiltrazione d'acqua tra le cause della caduta di una parte del solaio del corridoio della scuola media. È successo intorno alle 13, lezioni appena terminate nella secondaria di primo grado a Zanella di Col San Martino di Fara di Soligo. A dare notizia, lo stesso sindaco Mattia Perencin che ha immediatamente e subito firmato un'ordinanza di chiusura del plesso per domani e poi per lunedì, quindi il 21 e il 23 ottobre. Si è trattato del distacco, dell'intradosso di un'area di solaio del corridoio del primo piano. Ha scritto Perencin in una nota. Confrontatomi anche con il preside, ho deciso di chiudere la scuola almeno fino a lunedì per permettere una ditta di verificare, di fare le opportune verifiche. e quindi si cercherà di capire anche cosa ha causato questo parziale crollo che fortunatamente non ha provocato danni a persone, soprattutto agli alunni. Tempestivo l'intervento del sindaco in questo caso. La cronaca ancora, dicevamo, parliamo della sicurezza. Era il novembre 2022 una barista vittima di un agguato, un vero e proprio agguato picchiato e rapinato. I carabinieri sono riusciti ad arrivare ai responsabili. In tre contro uno lo hanno picchiato fino a stordirlo, una rapina ben pianificata con tanto di agguato per riuscire a strappargli l'incasso della giornata. Vittima predestinata un 34enne cittadino indiano. I fatti risalgono al novembre scorso quando il giovane indiano proprietario di un bar nel centro di Conegliano era stato aggredito da tre persone mentre stava attraversando il parco cittadino Papa Luciani. I tre malviventi avevano seguito la vittima fin da quando aveva chiuso il suo locale. Giunti al parco erano entrati in azione picchiandolo selvaggiamente fino a procurargli delle costole incrinate e varie contusioni. Nella colluttazione erano riusciti a rubare all'uomo l'intero incasso della giornata, 2000 euro. Grazie alle indagini condotte dai militari dell'arma anche con l'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunali due dei tre autori della rapina sono stati individuati. Sono un 21enne residente a Tarzo ed una 19enne residente a Mareno di Piave entrambi con precedenti penali. Per loro arresti domiciliari in attesa del processo. E un'altra vicenda che riguarda la marca a Vittorio Veneto è stato individuato uno dei due autori l'altro è stato bloccato a Mestre è di un stupro un terribile stupro una violenza di gruppo ai danni di una ragazza era avvenuto sette anni fa a Marcon. Violenza sessuale di gruppo arrestati due 27 anni dalla squadra mobile della Questura di Venezia lo stupro avvenuto nel 2016 nei confronti di una ragazza italiana che all'epoca dei fatti aveva 18 anni e aveva conosciuto uno dei due estrupatori in un locale di Mestre e con lui aveva avuto un flirt. La ragazza lo aveva poi seguito nella sua abitazione a Marcon dove si trovava anche il secondo ragazzo. I due, secondo quanto accertato dagli investigatori avrebbero approfittato della diciottenne abusando entrambi di lei nonostante la giovane avesse cercato in tutti i modi di respingerli. I due eri intracciati dopo una serie di monitoraggi uno dei quali fermato a Vittorio Veneto e ora condotto in carcere a Venezia dove dovrà scontare la pena di sei anni di reclusione. La guerra in Medio Oriente i controlli che si alzano ovviamente il rafforzamento dei controlli dopo lo scoppio della guerra mentre in queste ore parte il controllo alla frontiera slovena in Friuli-Venezia-Giulia ovviamente gli occhi sono puntati anche sugli aeroporti e c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza Alcanova di Treviso arrestato un 25enne africano che cercava di entrare in Italia con documenti falsi. È sbarcato all'aeroporto Canova di Treviso da un volo proveniente da Malta esibendo passaporto e permesso di soggiorno falsi. Un 25enne del JAD già richiedente asilo politico in Italia lo scorso febbraio è stato arrestato per essere entrato nel territorio nazionale utilizzando l'identità di un uomo del Mali. Sono stati i finanzieri del gruppo Treviso in servizio allo scalo aeroportuale trevigiano a rendersi conto che il passeggero straniero viaggiava con documenti di riconoscimento contraffatti. L'arresto del cittadino straniero che era sbarcato in Italia sull'isola di Pantelleria per poi giungere a Treviso è avvenuto pochi giorni fa nell'ambito del rinforzo dei controlli derivanti dalla crisi in Medio Oriente. Ricostruendo i movimenti dello straniero è emerso che l'uomo dopo essere sbarcato clandestinamente sull'isola di Pantelleria all'inizio del 2023 del febbraio dello stesso anno si era trasferito a Treviso dove aveva chiesto protezione internazionale salvo poi emigrare a Malta per accettare un'offerta di lavoro stagionale nel settore della ristorazione. Terminata l'esperienza lavorativa nell'isola ha deciso di rientrare a Treviso utilizzando una falsa identità allo scopo di eludere il divieto imposto dalle autorità italiane di lasciare il territorio nazionale in attesa della conclusione della procedura di richiesta di assistenza umanitaria. Nei giorni scorsi la convalida dell'arresto con le accuse di possesso di documenti di identificazione falsi reato punito con la reclusione fino a cinque anni. La guerra in Medio Oriente ed il conseguente rischio terrorismo anche in Europa hanno portato al rafforzamento dei controlli anche nella marca. Abbiamo incrementato i controlli presso l'aeroporto di Treviso e aumentato il numero delle pattuglie su strada che verificano soprattutto i mezzi e le persone che provengono dalla cosiddetta rotta balcanica. È stata una settantenne ad aver danneggiato lo scorso 30 settembre nove macchine parcheggiate nel centro di Farra di Soligo gesto nato pensate da questioni riconducibili a parcheggi disordinati e sempre a causa di problemi con il vicinato è scattata l'emanazione da parte della costruzione di Treviso di un atto di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il secondo in due giorni ieri si parlava di stalking nei confronti di una donna questa volta invece è una violenza che riguarda un forte contrasto tra vicini. Era nato tutto da una vecchia vicenda che riguardava questioni legate a terreni confinanti e di rispettiva proprietà degenerata negli ultimi anni in vera e propria persecuzione nei confronti dei vicini di casa. Protagonista della vicenda che si protraeva da tempo un 57enne di Fontanelle. L'uomo ha infatti iniziato a farsi trovare nelle vicinanze dei luoghi di lavoro dei due vicini di casa fratello e sorella minacciandoli a parole o con gesti obbligandoli di fatto a cambiare abitudini per fare in modo di non incontrarlo. Non sono mancate poi percosse, lancio di liquidi infiammabili, appostamenti e atteggiamenti di irrisione nei confronti dei componenti della famiglia. Tutto questo ha imposto alle due vittime di denunciare gli episodi all'arma dei carabinieri che ha portato le vicende a conoscenza anche dei poliziotti della divisione Polizia Anticrimine. Ciò è quanto bastato al questore per richiedere ottenere l'emissione del provvedimento della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla quale per l'anno e mezzo della sua durata si accompagnerà anche il divieto per l'uomo di soggiornare nei comuni di Codognè e San Vendemiano. Nonostante gli allarmi continuano le truffe nella marca ci sono diverse denunce da parte dei carabinieri. A Montebeluna una 54enne è stata truffata pensata da un 56enne veneziano che nei mesi di agosto e settembre si è finto avvocato prestando assistenza alla donna e facendosi pagare anche 2000 euro in parcelle per prestazioni fittizie visto che avvocato non era il 56enne è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco a paese i militari hanno invece denunciato una trentenne il quale aveva posto in vendita su una piattaforma di vendite online un camper facendosi accreditare da una 49enne slovena 43.500 euro senza poi consegnare il mezzo infine Ariese una 27enne ha acquistato su un sito sempre di e-commerce le truffe viaggiano ormai online un robot da cucina pagandolo 300 euro un robot che anche in questo caso non l'è mai stato consegnato e in questo caso un 39enne siciliano è stato denunciato dai militari dell'arma lasciamo la cronaca ci torneremo fra poco torniamo a parlare adesso della questione sanità l'abbiamo raccontato anche nella nostra prima edizione il personale infermieristico delle sale operatorie del cafoncello che ha lanciato un allarme stamattina un'assemblea e anche l'incontro con l'Ulss 2 con i vertici dell'Ulss 2 sentiamo e vediamo perché i lavoratori chiedono a gran voce il rispetto dell'orario di lavoro concordato perché vengono segnalati numerosi sforamenti delle sedute di sala operatoria e che chiaramente vanno ad influenzare poi la vita anche penso che nessuno dei cittadini vorrebbe essere operato finire sotto i ferri magari da uno che è già magari sette otto ore che lavora e che deve continuare a rimanere in sala e quant'altro l'altro aspetto critico è legato alla rotazione del personale perché questo cosa succede? che per tamponare un po' le carenze vengono passati da una sala all'altra più di 100 i lavoratori presenti all'assemblea questa mattina chiedono ai sindacati di categoria di rappresentarli e portare all'azienda le loro istanze sono diversi gli operatori delle sale operatorie che stanno chiedendo in questi giorni un supporto psicologico parlano di forte pressione di mancanza di comunicazione sul passaggio previsto per metà novembre alla nuova cittadella della salute quello che prima di tutto è emerso in assemblea è la richiesta di poter lavorare bene di poter lavorare per quelli per quello che sono stati formati sia con la formazione sì ma anche con gli anni di esperienza cioè poter lavorare sicuri per loro e anche per i pazienti per le sale operatorie mancano all'appello quattro infermieri e almeno sette operatori sociosanitari dicono chiedono protocolli precisi riorganizzazione logistica e della farmacia e poi formazione le specialità sono sempre più tecnologiche sempre più particolari e non è più possibile dire che un infermiere fa tutto non è più possibile e poi c'è la rassicurazione ci sono le parole del direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi sentiamole oggi sono 121 gli infermieri che lavorano nelle sale operatorie ne mancano esattamente tre già dalla prossima settimana inizieremo l'assunzione dei tre e quindi porteremo tre nuovi infermieri per cui andremo a completare la dotazione organica è stato chiesto di fare la formazione ma è chiaro entreremo con le chirurgie che sono già formate è proprio il direttore generale Francesco Benazzi a convocare dopo l'assemblea dei lavoratori una conferenza stampa diverse istanze sono state accolte alcune già anticipate dalla stessa direzione sanitaria assunzioni le graduatori sono in esaurimento e di organizzazione del lavoro faremo un'inversione di intervento cioè porteremo i grossi interventi a livello addominale quindi tumori al colon fegato pancreas alla mattina in modo tale da fare i piccoli interventi dopo verso l'una le due in modo tale che le persone sono meno stanche e quindi possono lavorare in serenità saranno ridefiniti i ruoli per gestire la nuova classificazione dei farmaci il post operatorio sarà gestito in stanze apposite in modo da liberare più velocemente le sale operatorie ci sarà un gruppo per il trasporto dei pazienti dedicato per la formazione assicura Benazzi si procederà per aree omogenee lavoriamo per macro aree che significa le chirurgie generali insieme alla senologia quelli saranno i strumentisti cioè i ferristi coloro che sono al tavolo operatorio assolutamente andremo a operare omogenee il piano di trasferimento alla cittadella sanitaria durerà due settimane si parte con le due chirurgie sul fronte del personale l'Ulsa ha già messo gli occhi sui futuri neolaureati l'avviso pubblico a loro dedicato sarà pubblicato entro metà dicembre sono circa 90 infermieri una ventina di ostetriche una ventina di tecnici di radiologia una trentina di assistenti sanitarie e poi professioni spese meno in ambito ospedaliero perché spese di più nel privato sono le audiometriste e i tecnici gli igienisti dentali il tema della giustizia sette mesi in carcere da innocente la vicenda di un 45enne che ora verrà risarcito lui ha sempre negato lui ha spiegato dicendo sì è vero purtroppo non l'avevo vista le sono andata addosso la ragazza non è caduta ma ovviamente ha messo giù il piede in quel momento ho messo giù io la bicicletta mi sono accertato come stava quindi l'ho presa per un braccio per aiutarla il fatto non sussiste il reato non è mai stato commesso la tentata rapina per la quale Mirko Tonetto 45enne senza fissa dimora ha dovuto passare sette mesi in carcere una custodia cautelare passata nella struttura carceraria perché appunto senza una casa accusato di aver tentato di rapinare della borsetta una sedicenne di origini cinesi contro cui si era scontrato in bicicletta a lungo strada Feltrina i fatti risalgono al 2021 lui si era dato da fare per aiutarla a sollevarsi per vedere come stava le condizioni di salute e in quel momento sono arrivate anche i carabinieri ci sono voluti sette mesi per arrivare al dibattimento in questa sede la giovane ritrattò la versione resa in un primo momento ipotizzando che forse come lui aveva sempre dichiarato l'uomo stesse cercando di aiutarla dopo la caduta il passaggio dei carabinieri sul posto la difficoltà della giovane ad esprimersi in italiano e lo spavento preso dopo la caduta di fronte ad un corpo sopra il suo un mix micidiale cui si aggiungono i tempi della giustizia sono i tempi della giustizia esattamente perché fin tanto che è arrivato il decreto di giudizio immediato che noi abbiamo deciso di fare il dibattimento e che si è poi ovviamente svolta l'udienza questi sono i tempi la reazione del suo assistito quando ha saputo ha avuto la conferma che poteva uscire dal carcere ah le dico mi ha abbracciato subito in udienza era veramente felice perché sapeva che appunto sin dall'inizio che non aveva fatto niente ora la corte d'appello di Venezia ha stabilito che Tonetto dovrà ricevere 270 euro per ogni giorno passato in carcere ingiustamente ecco il documento che lo stabilisce la politica adesso a giorni verrà ratificata ufficialmente l'espulsione della lega del consigliere regionale Fabiano Barbisand dopo le frasi shock pronunciate a focus le abbiamo raccontato ieri a chiamarlo in queste ore anche il governatore Zaia penso che non ci siano giustificazioni per quello che ha detto ha fatto le scuse c'è stata ovviamente l'espulsione io non ho altro da aggiungere sono diciamo affermazioni che non si possono minimamente giustificare non si fanno punto e basta quelle affermazioni nemmeno uno che lo conosce bene come il governatore del Veneto gli ha lasciato qualche possibilità di sorta ma c'è da credere che il caso di Fabiano Barbisand espulso dalla lega per le sue frasi shock a focus su donne e uomini di colore tenga ancora banco nei prossimi giorni almeno finché non si saprà il suo futuro forse verso altri lidi politici che in molti prima dello scandalo vedevano colorati di azzurro forza Italia ma dopo quanto accaduto c'è da credere che il segretario Veneto Flavio Tosi voglia tenersi alla larga da scelte che aprirebbero un fronte di forte discussione interna al partito in progressiva rimonta in Veneto l'unica cosa certa è che il 69enne consigliere regionale è fuori dalla lega decisione ratificata a giorni e un'altra ricostruzione è che il numero uno del carroccio Veneto Alberto Stefani abbia colto la palla al balzo per togliere di mezzo uno dei leghisti contestatari della nuova linea viste le polemiche per il mancato voto al congresso regionale Stefani oggi nella sua borgo ricco ha glissato ogni commento ulteriore rispetto al freddo comunicato con il quale ieri è espulso Barbisan che invece ha ricevuto una chiamata L'ho sentito ieri sera gli ho telefonato lui è assolutamente preoccupato e anche rammaricato di tutto quello che ha fatto e mentre sui social più di qualche politica donna chiede a Barbisandi di mettersi anche da consigliere regionale resta ampliando il discorso una riflessione proprio delle donne in politica su certi limiti ormai insopportabilmente superati io credo che oggi il vero problema sia che comportamenti come questi mettono in difficoltà quello che è l'immagine di una pubblica amministrazione e di un'istituzione il tema però è proprio vivere in questo circo mediatico dove si dimenticano alcuni fondamentali mentre soprattutto chi è nelle istituzioni deve secondo me avere rispetto della dignità di ogni persona nel frattempo gli alleati della Lega Fratelli Italia compiono proprio nella marca un sorpasso storico sul numero dei tesserati un sorpasso proprio sulla Lega 2.751 l'ultimo dato relativo ai tesserati di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso un dato che sancisce il sorpasso sulla Lega ferma circa 2.300 e che brucia gli alleati del Carroccio nella provincia più leghista d'Italia esultano i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni anche per il risultato a Treviso città 350 tesserati numeri che già le ultime amministrative hanno portato in giunta due assessori crescono i tesserati nella città di Treviso i numeri sono cresciuti tantissimo vuol dire che l'apporto che stiamo dando anche come amministratori penso ma come iscritti come tesserati sta lavorando nella giusta direzione non mi interessa i numeri degli altri guardo i nostri la crescita è significativa e continuiamo a lavorare così chiusa la stagione del tesseramento parte quella dei congressi un calendario ufficiale ancora non c'è ma probabilmente il provinciale dovrebbe tenersi entro fine novembre in seguito si voterà per il congresso regionale ed i numeri raggiunti dagli iscritti inorgogliscono il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia il senatore Luca De Carlo che non ha mai fatto mistero del desiderio del partito di puntare per il 2025 al vertice della regione a scapito dell'alleato leghista io non faccio mai paragoni interni a me quello che interessa sempre è che Lega più Fratelli d'Italia più Forza d'Italia più centristi facciano sempre il 51 lo dico sempre e lo dicevo anche quando noi eravamo piccolini a maggior ragione adesso che siamo un po' più grandicelli degli altri ma la politica è fatta di evoluzione oggi magari a noi domani a un altro e quindi l'importante è essere sempre alternativi alla sinistra e avere sempre un voto in più della sinistra che rappresenta una parte di mondo che a noi non piace adesso pochi istanti di pubblicità poi di nuovo in diretta rieccoci in studio in diretta ritorniamo a Treviso per parlare di un'opera che ha letteralmente colorato una scuola di San Liberale Dalla classe prima alla quinta cantando sulle note della canzone dei Modà come un pittore i piccoli studenti della primaria Collodi assieme ad una rappresentanza della secondaria di primo grado Coletti hanno inaugurato un vario pinto murale dell'artista Giulio Vesprini giallo, blu, rosso le forme astratte hanno ricoperto un'intera parete della loro scuola che è realizzato sulla parete della scuola quindi è un simbolo di come la scuola possa essere al centro di un territorio di un quartiere a noi alunni di classe quinta è piaciuto molto il murale è stato proprio Giulio Vesprini a presentare e illustrare agli alunni della scuola il murale il mio scopo è quello di far tornare a comunicare le pareti con la città pareti grigie che non comunicavano più restituirle alla comunità attraverso un'esplosione di luce di forme e di colori l'opera di Giulio Vesprini è nata grazie alla partecipazione del Rotary Club abbiamo messo insieme come è il nome del murales il comune di Treviso tutti i Rotary parecchi club e poi anche la comunità del quartiere di San Liberale da molti anni nel Rotary c'è una commissione per la fresco che punta a valorizzare la storia di questa tradizione questa particolare tecnica abbiamo pensato che oltre alla storia bisognava anche fare ci sono tanti colori diversi che vivono in armonia come noi che siamo tutti amici e non ci importa se siamo diversi e questo regala al nostro quartiere qualcosa di bello di calmo e di rilassato una vera e propria lezione agli adulti da parte dei bambini sull'armonia e domani sera domani al Teatro del Monaco di Treviso lo spettacolo storico Jesus Christ Superstar il concerto sarà l'occasione per raccogliere fondi da destinare ai tanti progetti di Unicef 130 giovani musicisti tra solisti core, orchestra e rock band per un'esclusiva esecuzione dell'opera di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice Jesus Christ Superstar l'orchestra giovanile La Regiussance insieme all'orchestra giovanile Filarmonia Veneta sabato 21 ottobre al Teatro Mario del Monaco daranno vita ad un concerto spettacolo un progetto nato nel 2020 che racchiude in sé la missione dell'associazione Music Drama che festeggia 25 anni di attività la musica oltre la musica i ragazzi si ritrovano a lavorare insieme tra i 10 e i 25 anni in questo momento della vita è bellissimo importante incontrarsi insieme condividere quello che è la passione i valori della musica i valori di stare insieme tutti loro diventano cacciatori di bellezza dentro questo progetto grande e imparano a relazionarsi con gli altri Musica ma anche solidarietà visto che quanto raccolto servirà ad Unicef per continuare il lavoro iniziato a Treviso più di 40 anni fa per affrontare le tante emergenze nel mondo ma anche l'impegno nella marca in collaborazione con le scuole è giusto che i bambini ed è un assoluto che i bambini possano conoscere i propri diritti per poi essere anche più liberi nella costruzione di un adulto più consapevole Abbiamo detto il maltempo è arrivato come previsto cosa ci aspetta per il weekend nelle prossime ore anche un po' all'inizio della prossima settimana lo chiediamo come ogni venerdì al generale Giancarlo Iannicelli L'alta pressione si mantiene su di noi al di sotto del valore normale quindi è un campo libero al passaggio di sistemi perturbati come è evidente dalla carta del tempo però sono sistemi perturbati che danno il massimo della loro forza sulle regioni nord-occidentali Piemonte Lombardia poi compiono quasi un balzo e tenderanno a interessare le regioni centromedionali tutto sommato alle nostre zone sì il cielo è molto molto nuvoloso coperto abbiamo qualche fenomeno e lo avremo soprattutto nelle prossime ore però tutto sommato un fine settimana poi sarà l'insegna della variabilità ma con fenomeni pochi pochissimi prevediamo infatti sul Treviso e sul Trevigiano per domani una nuvolosità irregolare nella serata un aumento della nuvolosità temporanea con possibilità di qualche precipitazione abbastanza isolata per domenica poi abbiamo un cielo variabile una nuvolosità variabile con spazi di sereno un po' di nubi interesseranno comunque per tutti il giorno ancora il cielo il campo rimarrà di pressioni tendenti verso il basso quindi verso la bassa pressione quindi un campo libero al passaggio di altri sistemi perturbati che caratterizzeranno la prossima settimana con una nuvolosità variabile a tratti intensa qualche precipitazione insomma una variabilità con un po' di instabilità ci interesserà tutta la prossima settimana con un peggioramento poi nella settimana seconda parte i venti per ora sono deboli di direzione variabile ma avremo qualche rinforzo soprattutto in serata le temperature sono tornate nella norma le minime intorno a 15 16-17 gradi le massime intorno ai 20 gradi l'altadriatico è mosso molto mosso ma il motondoso tende lentamente a calmarsi è tutto e noi adesso andiamo nel bellunese un tiro a tenere banco ovviamente la polemica Milano-Cortina l'addio la pista da Bob come sappiamo ieri la Lombardia ha alzato un muro contro la proposta del governatore Zaia di redistribuzione delle gare dopo l'affossamento del progetto di costruzione del nuovo sliding center a Cortina non ci sono margini per alcuna modifica questa è la voce dalla Lombardia sentiamo cosa ha detto oggi anche il governatore Zaia tutti contro il Veneto per meglio dire contro il presidente della regione Luca Zaia e la sua proposta di ridistribuzione delle discipline olimpiche dopo lo schiaffo a Cortina e il progetto di costruzione della nuova pista da Bob ed è muro contro muro in queste ore il presidente della regione Lombardia Tiglio Fontana oggi conferma le sue dichiarazioni rilasciate a Repubblica non si possono più fare queste proposte perché ormai è partita la macchina ferma appunzecchiando neppure troppo velatamente il Veneto per i ritardi accumulati noi siamo in assoluto rispetto dei tempi dice Fontana progettazioni bandi di gare e investimenti che non possiamo più sospendere non credo sia plausibile ogni tipo di modifica del piano che era stato approvato anche dal CIO Zaia oggi da Roncade risponde e non si arrende abbiamo un consiglio martedì e quindi vedremo di capire come sarà dal resto è anche impensabile che si possa immaginare che una località che dà il nome alle Olimpiadi che è Cortina possa avere otto gare quindi le facciamo in una mattinata non mi sembra che si possano chiamare Olimpiadi il Presidente della Regione fa appello al buon senso di tutti è arrivata una disciplina ma non è una mia richiesta è arrivata una disciplina nuova che è stata che è stata lo sci alpinismo abbiamo deciso assieme di attribuirla ad esempio alla Lombardia questo accade ma accade non solo da noi è accaduto anche nelle altre Olimpiadi noi abbiamo due diciamo eventi le Olimpiadi e le Paralimpiadi adesso sto parlando delle Olimpiadi che sono quelle che hanno avuto diciamo questo problema di cedere il Bob che significa per noi Bob skeleton slittino quindi significa un bel po' di gare un bel po' di medaglie intanto da Torino si annuncia che a giorni sarà pronto lo studio di fattibilità per l'adeguamento della pista di Cesana con il benestare della Lombardia nessun problema se il governo decide per Torino già ma ha quando la decisione soprattutto di chi sono le responsabilità per il fallimento del progetto di Cortina notizia di cronaca di poco fa è successo intorno alle 18 a Feltre i vigili del fuoco sono intervenuti in via panoramica a Feltre vedete le immagini di poco fa per il dissesto statico di un muro in pietra di contenimento fortunatamente nessun mezzo persone coinvolte i pompieri a corsi dal distaccamento volontari di Feltre hanno effettuato un sopralluogo e fatto intervenire un mezzo movimento terra del comune per la rimozione che è tuttora in corso fortunatamente non c'erano vetture che passavano in quel momento ha superato la prima importante scadenza fissata dal ministero la fase progettuale dei lavori che BIM GSP realizzerà per ridurre fino al 35% entro la fine del 2025 le perdite idriche dei principali acquedotti bellunesi la società ha affidato tutte le attività programmate circa un centinaio i contratti formalizzati attraverso gare d'appalto anche europee i lavori interesseranno 36 sistemi acquedottistici distribuiti in 16 comuni bellunesi per un totale di oltre 100.000 abitanti un progetto da circa 26 milioni di euro finanziato per la quasi totalità da fondi PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti torniamo a Belluno la questione della mancata assunzione delle educatrici al nido di Cavarzano al centro del dibattito del Consiglio Comunale di Belluno i sospetti di insieme per Belluno bene comune hanno trovato conferma in parte è così bisogna dare un reatto ma il problema del bilancio consolidato sapete che è il bilancio delle società partecipate e viene fatto dal servizio delle società partecipate questo servizio a marzo è stato tolto la persona di riferimento la situazione perciò è un problema solo e esclusivamente dovuta al tempo non di sicuro a una mancanza di volontà l'assessore al bilancio e vice sindaco del comune di Belluno dà atto ai consiglieri del gruppo insieme per Belluno bene comune loro l'ipotesi secondo cui dietro la mancata assunzione delle due educatrici al nido piccolo arcobaleno di Cavarzano che ha causato gravi problemi alle famiglie in attesa dell'ingresso dei loro bambini ci sia stata la mancata approvazione del bilancio consolidato al 30 settembre l'approvazione del documento contabile c'entra ma fino a un certo punto indipendentemente dal bilancio consolidato prima del 26 27 di ottobre non avrà però potuto prendere servizio così la spiega l'assessore Gamba smentito in aula dall'ex sindaco Massaro che ha dato la sua versione dei fatti il concorso per l'assunzione di un'educatrice viene modificato il 7 luglio il bando da un posto passa a due per coprire una dimissione il concorso segue il suo iter il guaio sorge il 31 agosto quando Palazzo Rosso concede al comune di Vittorio Veneto di attingere alla graduatoria di Belluno ancora valida per una educatrice la stessa che poteva essere impiegata al piccolo arcobaleno nelle more dello svolgimento del concorso consentendo ai dieci bambini in attesa di poter fare il loro ingresso ora le assunzioni delle due educatrici saranno sottoposte al consiglio comunale convocato d'urgenza per il prossimo 15 novembre per consentire il loro ingresso in servizio il giorno successivo ancora la cronaca un incidente avvenuto alle 18 a Fonzazzo con lo schianto tra due auto lo vedete nelle immagini sempre dei vigili del fuoco tre persone coinvolte una di queste ferite sul posto i vigili del fuoco i sanitari del SUEM i carabinieri hanno deviato il traffico e eseguito i rilievi del sinistro comunque un ferito in questo schianto che vedete nelle immagini chiudiamo parlando dei bersaglieri a distanza di 60 anni i bersaglieri che furono tra i primi a intervenire per i soccorsi il giorno dopo il disastro del Vaionta ritornano a Longarone con la esercitazione nazionale dei nuclei di protezione civile e il raduno interregionale Veneto-Friuli-Venezia-Giulia non sarà soltanto una celebrazione ma un'occasione per dimostrare sul campo l'operatività in situazioni di emergenza a cui potranno partecipare studenti e scolari delle scuole di ogni ordine e grado l'appuntamento è per domani e per domenica parallelamente scorrerà per le strade della valle colpita dall'onda del Vaionta la stafetta cremisi della solidarietà con cui un gruppo di bersaglieri e atleti collegherà idealmente la località di Longarone Erto e Casso trasportando un testimone artistico creato da artigiani locali è davvero tutto per questa edizione vi lascio al momento vi ricordo che dopo di noi vanno in onda il telegiornale del Veneto e di Venezia occasionalmente soltanto per oggi vista la concomitanza alle 18 della diretta della messa dalla Madonna della Salute per Pio X arrivederci Busti, tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene ben trovati al meteo continua il maltempo portato da una perturbazione atlantica ancora piogge sul nostro territorio vediamo insieme il dettaglio di sabato 21 ottobre sul Veneto precipitazioni più persistenti ed abbondanti specie sulle zone montane e pedemontane via via più diffuse nel corso della giornata un po' su tutti i settori della nostra regione tendenza a diradamento dei fenomeni a partire dalla sera temperature stazionarie minime sugli 11 13 gradi massime comprese tra 20 e 23 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui sarà piuttosto instabile con cielo nuvoloso e con piogge intermittenti a tratti moderate temperature minime tra 11 e 15 gradi massime sui 19 e 22 gradi all'incirca infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà poco differente infatti ci attende una spiccata variabilità con rovesci sparsi temperature minime intorno agli 11 gradi massime infine sui 19 gradi all'incirca dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura da la 25 Grazie a tutti.